Prima la corsa contro il tempo per evitare il commissariamento in materia finanziaria dopo la diffida della prefettura, quindi la delibera adottata nel giro di un'ora che prevedeva un piano di riequilibrio in 15 anni avviando di fatto una procedura di dissesto guidato e portando il comune di Libbo alla seconda dichiarazione di default nel giro di 5 anni. A 4 giorni di distanza però uno spiraglio, suggerita dalla docente unica al Maria Nardo, si concretizza infatti la possibilità di ripianare il disavanzo stimato in oltre 7 milioni di euro attraverso una procedura ordinaria in 3 anni, puntando su una più efficace lotta all'evasione e su una più puntuale attività di notifica dei tributi. Un exit strategy finalizzata a colmare la voragine dei fondi vincolati che prevede soprattutto l'adozione della lineatura nei confronti degli evasori, non solo cittadini ma anche enti e istituzioni che in alcuni casi devono al comune cifre da capogiro anche oltre i 2 milioni di euro. Si tratta di riorganizzare meglio gli uffici e di procedere contro gli evasori cercando di far capire ai cittadini che noi offriremo le possibilità, tutte le possibilità che la legge ci consente di dare, però saremo inesorabili nei confronti di tutti. Una vicenda segnata da giorni di tensioni con reciproco scambio di accuse tra la componente politica e quella burocratica che ha portato alle dimissioni dell'assessore a ramo Laura Pugliese, uscita in polemica con gli uffici e con il primo cittadino. L'assessore mi aveva fatto rilevare che secondo lei ci sarebbero state delle omissioni da parte della dirigente, tant'è vero che io ho mandato una lettera alla dirigente sottolineando queste omissioni e il giorno successivo sono arrivate invece le dimissioni, che non ho capito. Stefano Mandarano per la CNews24